per una battuta veloce si grazie bene si potrebbe dire che Maradona oggi non è bastato al Napoli anche se ce l'ha messa tutta no? un gol alla grande e altri gol magari che non sono venuti no credo che il Napoli ha sbagliato nel primo tempo però nel secondo tempo meritava il pari non abbiamo potuto e pazienza credo che il campionato comincia per noi adesso a parte che credo che oggi abbiamo capito che stiamo giocando contro di tutti contro tutti quanti appunto ma per vincere bisogna giocare contro tutti no? no non si gioca solo con l'Inter si gioca contro tutti quanti perché oggi abbiamo capito dentro del campo che non stavamo giocando solo contro la Fiorentina si vuole capire che capisci? si